Va gradualmente in accelerazione, lo stacco in questo istante si avvantaggia offensore oppia all'attacco di Nuvola Stella, offensore che insiste e passa, in 150 metri offensore al comando, Nuvola Stella di rincalzo, in terza posizione si mantiene Maestà, poi ancora la risalita di Oneroso, intanto siamo all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune, offensore oppia al comando Oneroso all'esterno, lungo la corda, Nuvola Stella su Maestà, largo guadagna anche Ok Spin che si porta appresso Milton Dante, 600 metri in 45 e mezzo, quarta pariglia esterna per Noravald, gruppo chiuso da Lyric, penultima curva con Offensore e Oneroso in coppia in avanti, poi Nuvola Stella e Ok Spin, 800 in 1, 2 e mezzo La retta opposta alle tribune con Offensore al comando, il tentativo in terza ruota di Okina che va ad incalzare Oneroso e reagisce lungo la corda però Offensore OP, quando mancano 400 alla conclusione, Offensore in vantaggio, Nuvola Stella di rincalzo, allargo Oneroso sopravanzato in terza da Okina, largo anche Milton Dante che segue Okina in terza, Offensore all'accordo, Oneroso allargo, Okina in terza, sbaglia Milton Dante, prova ad avvicinarsi ai primi anche Nora Balde che finora è stata alla finestra mentre ha sbagliato Maestà, Offensore che prova la lungo, Oneroso che attacca, Nuvola che trova il barco, Onoslava Marchelli, calciglio esterno finisce forte, Nora Valde, le battute finali sul palo Vicini, Offensore, Nora, Nuvola al terzo posto Grazie a tutti